Musica Credo che anche per il CONI sia la sua presenza un importante riconoscimento a quello che è stato il lavoro di Umberto Cavini e soprattutto al premio che questa sera è stato dato a Rita Gozzi Certo, è importantissimo perché il CONI rappresenta lo sport e soprattutto a livello territoriale queste realtà sono quelle che fanno più bene allo sport perché rappresentano anni e anni di dedizione allo sport, al territorio, ai ragazzi, all'attività sportiva e quindi è giusto che il CONI sia presente in queste occasioni non solo per il riconoscimento formale di oggi ma proprio anche per testimoniare la propria vicinanza allo sport che si svolge grazie a queste associazioni che lo fanno con così tanta passione e quindi poi il riconoscimento a Rita Gozzi, un riconoscimento assolutamente doveroso per la persona per quello che ha dato allo sport, è stata premiata anche dal CONI quest'anno e quindi non poteva che essere altrimenti poi fa piacere perché è una donna e soprattutto fa piacere perché c'è il merito quindi non solo la figura femminile, quindi questo gratifica ancora di più è vero